Procedura civile lezione numero 31 la risoluzione alternativa delle controversie argomenti trattati in questa lezione introduzione la mediazione la negoziazione assistita l'arbitrato l'arbitrato il rituale gli arbitri la domanda di arbitrato e la sede il procedimento e l'istruzione probatoria la pluralità di parti e la sospensione del procedimento arbitrale rapporti tra arbitro e giudice il lodo le impugnazioni del lodo e l'arbitrato societario l'ordinamento giuridico italiano fornisce ulteriori modelli di risoluzione delle controversie che si basano sulla volontà negoziale il sistema giuridico riconosce numerosi modelli di risoluzione alternativa delle controversie come la transazione la conciliazione l'arbitrato e la risoluzione delle liti attraverso le autorità amministrative in linea generale i metodi alternative di alternativi di risoluzione delle controversie si distinguono in procedure autonome e procedure eteronome le procedure autonome in queste procedure l'atto di risoluzione della controversia è direttamente attribuibile alle parti e rappresenta la loro volontà di porre fine alla controversia sono un esempio di procedure autonome la transazione e la mediazione le procedure invece eteronome in cui la soluzione della controversia viene identificata esternamente mediante la definizione di regole di comportamento da parte di un terzo incaricato di individuare le ragioni e le colpe e di risolvere la controversia secondo la giustizia esempio di procedura eteronoma e l'arbitrato parliamo della mediazione la mediazione conciliazione è un meccanismo per risolvere i conflitti nel quale le parti raggiungono un accordo attraverso l'intervento di un terzo che cerca di conciliarle vi sono due tipi di conciliazione la conciliazione giudiziale che avviene davanti ad un giudice durante un processo e la conciliazione stragiudiziale che si svolge al di fuori del processo anche senza la presenza di un giudice la conciliazione stragiudiziale può essere facoltativa oppure obbligatoria la conciliazione facolta nella conciliazione facoltativa le parti possono scegliere la via conciliativa ma non sono obbligate a farlo nella conciliazione obbligatoria le parti devono tentare la conciliazione prima di ricorrere all'autorità giudiziaria diviene dunque una condizione di procedibilità della domanda giudiziale la conciliazione ha ricevuto un'ampia estensione applicativa con il decreto legislativo 28 del 2010 che ha introdotto un modello generalizzato di mediazione per tutte le controversie civili e commerciali e più recentemente con il decreto legislativo 149 del 2022 la cosiddetta riforma cartabia l'ambito di applicazione si estende a tutte le controversie civili e commerciali riguardanti diritti disponibili il decreto legislativo 28 2010 prevede diverse forme di mediazione mediazione obbligatoria imposta come condizione di procedibilità della domanda giudiziale per determinate materie tassativamente individuate come ad esempio condominio diritti reali divisione successioni ereditarie patti di famiglia locazione comodato affitto di azienda risarcimento del danno del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria una mediazione facoltativa in cui le parti scelgono di affidare la risoluzione del conflitto a un regolatore è una mediazione demandata in cui è il giudice a invitare le parti a seguire la via conciliativa e poi inoltre abbiamo anche una mediazione concordata quando la clausola di mediazione o conciliazione è contenuta in un contratto oppure nello statuto o nell'atto costitutivo di una società la domanda di mediazione si propone ad un organismo iscritto in un registro depositato presso il ministero della giustizia la funzione conciliativa è poi svolta da un mediatore iscritto presso l'organismo che per accedere alla professione deve assicurare garanzie di professionalità e terzi età e aver superato un esame abilitativo il procedimento di mediazione ha una durata di tre mesi prorogabile di ulteriori tre mesi se le parti raggiungono un accordo il mediatore redige un verbale a cui è allegato il testo dell'accordo se non viene raggiunto un accordo il mediatore può comunque formulare una proposta conciliativa l'organismo deve essere scelto nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia tuttavia è stata introdotta la possibilità di derogare a tale competenza su accordo delle parti la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza il procedimento che ha una durata di tre mesi prorogabili di ulteriori tre dopo la sua instaurazione si svolge senza formalità ma le parti vi devono partecipare personalmente l'accordo raggiunto tra le parti se assistite da avvocati costituisce un titolo esecutivo per vari tipi di esecuzioni e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale durante la mediazione è possibile ottenere tutela cautelare gli avvocati attestano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico in caso contrario l'accordo necessita dell'omologazione del presidente del tribunale la riforma cartabia ha introdotto il gratuito patrocinio in casi di mediazione obbligatoria per incentivare l'uso della mediazione parliamo adesso della negoziazione assistita la procedura di negoziazione assistita è introdotta dal decreto legge 132 del 2014 convertito con legge 164 del 2014 è un modello di risoluzione alternativa delle controversie in cui le parti coadiuvate dai loro avvocati raggiungono un accordo amichevole ovvero la convenzione di negoziazione assistita per risolvere una controversia la convenzione di negoziazione assistita che deve essere redatta in forma scritta secondo un modello fornito dal consiglio nazionale forense deve contenere i termini di durata l'oggetto della controversia che non può riguardare diritti indisponibili e può includere l'opportunità di acquisire dichiarazione di terzi dichiarazione della controparte su fatti veritieri e la possibilità di svolgere la negoziazione tramite modalità telematiche o con collegamenti audiovisivi a distanza il decreto legge 132 del 2014 prevede due tipologie di negoziazioni assistite una facoltativa e un'obbligatoria è facoltativa quando le parti decidono spontaneamente di ricercare un accordo stragiudiziale con l'assistenza dei loro avvocati è obbligatoria quando è prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale per controversie legate al risarcimento del danno da circolazioni di veicoli innatanti o per controversie che riguardano il pagamento di somme non superiori a 50.000 euro nei casi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria la legge prevede come condizioni di procedibilità alternative una consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi o la mediazione civile l'accordo che risolve la controversia attestato dagli avvocati per la sua conformità alle norme imperative all'ordine pubblico costituisce un titolo esecutivo e deve indicare il suo valore per i contratti o atti soggetti a trascrizione non basta la sottoscrizione e l'autenticazione degli avvocati ma occorre l'autenticazione di un pubblico ufficiale autorizzato la riforma cartabbia ha esteso l'uso della negoziazione assistite alle controversie in materia di lavoro parliamo dell'arbitrato l'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di rito l'arbitrato è una procedura alternativa alla giurisdizione ordinaria che consente alle parti di una controversia di risolverla tramite un terzo imparziale detto arbitro scelto da loro stesse questo strumento processuale trova applicazione in molte materie diverse come le controverse societarie di lavoro sportive e con la pubblica amministrazione grazie alla previsione di diversi modelli speciali di arbitrato nelle leggi speciali l'arbitrato può essere ad hoc cioè relativo ad una singola controversia o a controversie derivanti da un singolo rapporto con gli arbitri nominati caso per caso o amministrato in cui la procedura è gestita da organizzazioni specifiche come la camera di commercio che predeterminano le modalità procedurali e la lista di potenziali arbitri quest'ultimo tipo di arbitrato è disciplinato all'articolo 832 del codice di procedura civile le controversie arbitrabili arbitrabili sono quelle che non riguardano diritti indisponibili salvo espliciti divieti legislativi secondo la giurisprudenza costituzionale corte costituzionale 221 del 2005 la scelta di deferire una controversia all'arbitrato deve essere libera e non può essere imposta dalla legge in ossegue al principio di tutela giurisdizionale garantito dall'articolo 24 della costituzione la convenzione di arbitrato e l'atto con cui le parti convengono di deferire la controversia ad arbitri essa può assumere tre forme quella di un compromesso e quella di una una clausola compromissoria e quella di una convenzione di arbitrato vediamole una per una quindi la forma di un compromesso che quella prevista dall'articolo 807 che è raggiunto quando la controversia è già sorta oppure quella della clausola compromissoria 808 che riguarda controversie future in entrambi i casi in questi due casi la convenzione deve essere redatta per iscritto appena di nullità la clausola compromissoria è richiesta la forma scritta ab sostanziam ed è considerata una clausola vessatoria inoltre è autonoma rispetto al contratto principale se il contratto viene annullato rescisso la clausola compromissoria rimane efficace e poi l'altra forma della convenzione di arbitrato è quella di della convenzione di arbitrato in materia non contrattuale prevista dall'articolo 808 bis le parti possono stabilire che siano decise da arbitri le controversie future relative a rapporti non contrattuali a condizione che nella clausola siano determinati come quelli ereditari condominiali o di vicinato la legge favorisce l'arbitrato interpretando la convenzione nel senso che la competenza degli arbitri si estende a tutte quelle controversie che derivano da contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce infine se la procedura si conclude senza una pronuncia sul merito la convenzione di arbitrato conserva la sua efficacia e può essere utilizzata per un altro procedimento parliamo dell'arbitrato irrituale l'arbitrato può essere suddiviso in due tipologie l'arbitrato rituale disciplinato dagli articoli 806 seguenti che è un procedimento in cui le parti deferiscono la risoluzione di una controversia un terzo rinunciando alla giurisdizione ordinaria e l'arbitrato irrituale che deriva dalla pura autonomia privata delle parti che sceglie di risolvere la controversia mediante una decisione non legale ma contrattuale come l'arbitrato rituale l'irrituale può essere applicato dove esiste disponibilità del diritto la differenza fondamentale tra le due forme di arbitrato risiede nell'efficacia del lodo ovvero nella decisione che pone fine alla controversia sottoposta ad arbitrato per l'arbitrato rituale il lodo ha effetto di sentenza dal momento della sua ultima sottoscrizione mentre per l'arbitrato irrituale il lodo costituisce una determinazione contrattuale e non ha la stessa efficacia di una sentenza per essere scelto l'arbitrato irrituale deve risultare esplicitamente dalla convenzione di arbitrato il regime di impugnazione del lodo differisce tra le due forme il lodo rituale può essere impugnato secondo gli articoli 827 per nullità revocazione e opposizione di terzo il lodo irrituale invece può essere annullato dal giudice competente secondo le disposizioni del libro primo del codice di procedura civile tramite un'azione di accertamento dell'invalidità del lodo da proporre al tribunale le ragioni di impugnazione del lodo irrituale sono numerate nell'articolo 808 ter comma 2 e sono se la convenzione dell'arbitrato è invalida o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti alla convenzione arbitrale se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizioni di validità del lodo e se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio l'acquisizione dell'efficacia esecutiva del lodo il lodo rituale può acquisire efficacia esecutiva depositandolo nella cancelleria del tribunale nel cui circondario si trova la sede dell'arbitrato il lodo irrituale non è un titolo esecutivo e la parte che intende beneficiare del lodo deve attivare un processo cognitivo autonomo per ottenerlo tuttavia alcune forme speciali di arbitrato irrituale permettono l'omologazione dei lodi come nel caso delle controversie di lavoro parliamo adesso degli arbitri gli arbitri hanno un ruolo centrale nel diritto processuale civile il codice infatti fornisce diverse disposizioni sulla nomina la responsabilità e i poteri degli arbitri l'articolo 812 stabilisce che non può ricoprire la carica di arbitro che è privo in tutto in parte della capacità di agire gli arbitri possono essere uno o più purché il numero dispari per prevenire stallo nelle decisioni la nomina può essere indicata direttamente nella convenzione di arbitrato o in alternativa la stessa può prevedere il numero degli arbitri ed i criteri per la nomina se le parti indicano un numero pari di arbitri l'ulteriore arbitro è nominato dal presidente del tribunale secondo le modalità dell'articolo 810 se le parti non determinano il numero degli arbitri essi sono tre in mancanza di specifica indicazione nella convenzione di arbitrato circa i criteri per la nomina dell'arbitro si applica la disciplina dell'articolo 810 gli arbitri possono essere sostituiti quando quelli originariamente nominati vengono a mancare con le stesse modalità previste per la nomina oppure in subordine facendo applicazione dell'articolo 810 possono essere sostituiti se omettono o ritardano di compiere un atto relativa alle proprie funzioni così come prevede l'articolo 813 bis una volta nominati gli arbitri devono accettare per iscritto l'incarico il quale può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione l'accettazione deve essere accompagnata appena di nullità da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante per un'eventuale ricusazione degli arbitri che deve essere rinnovata in presenza di circostanze sopravvenute questo articolo questo diciamo lo stabilisce l'articolo 813 comma primo è modificato in ultimo dalla riforma cartabia agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio l'arbitro è tuttavia assoggettato a taluni profili di responsabilità in caso di omissioni o ritardi nella pronuncia del lodo o nella esecuzione degli atti dovuti inoltre ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio gli arbitri devono assicurare le garanzie di terzi età e imparzialità l'articolo 815 prevede una speciale disciplina per la ricusazione degli arbitri la ricusazione è proposta con ricorso al presidente del tribunale individuato essenzio dell'articolo 810 entro dieci giorni dalla nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione l'articolo 815 regolamenta il procedimento di ricusazione dell'arbitro il presidente del tribunale è investito del potere di decidere con un'ordinanza non impugnabile il processo decisionale include l'ascolto dell'arbitro e delle parti nonché l'acquisizione di informazioni sommarie se necessario l'ordinanza contiene anche la liquidazione delle spese se l'istanza di ricusazione è manifestamente inammissibile o infondata il presidente del tribunale può condannare la parte istante al pagamento di una somma a favore dell'altra parte la somma è equitativamente determinata e non può superare il triplo del massimo del compenso che spetta all'arbitro singolo secondo la tariffa forense va notato che l'istanza di ricusazione non comporta la sospensione del procedimento arbitrale a meno che gli arbitri non decidano diversamente se l'istanza viene accolta qualsiasi attività svolta dall'arbitro ricusato o con il suo contributo diventa inefficace riguardo i diritti degli arbitri l'articolo 814 comma 1 riconosce il diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata salvo rinunce esplicita da parte degli arbitri al momento dell'accettazione o con atto successivo le parti sono tenute solidalmente al pagamento salvo diritto di rivalsa gli arbitri possono richiedere acconti prima di proseguire con il procedimento se una delle parti non effettua tali anticipazioni l'altra può provvedervi per intero se entrambe le parti non forniscono il pagamento anticipato e il termine stabilito dagli arbitri queste non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato per la controversia in questione la domanda di arbitrato e la sede la riforma cartabbia introdotto nel codice di rito l'articolo 816 bis 1 parificando gli effetti sostanziali della domanda di arbitrato a quelli della domanda giudiziale ciò significa che anche nel caso di traslazio giudici del dal giudizio arbitrale al giudice ordinario gli effetti della domanda di arbitrato vengono mantenuti anche per qua anche per quanto riguarda l'opponibilità ai terzi la domanda di arbitrato produce gli stessi effetti della domanda giudiziale la legge prevede l'equiparazione della domanda di arbitrato alla domanda giudiziale per la trascrizione nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria la parte deve notificare all'altra un atto in cui dichiara l'intenzione di promuovere il procedimento arbitrale arbitrale propone la domanda e procede per quanto le compete alla nomina degli arbitri riguardo la sede dell'arbitrato ai sensi dell'articolo 816 è determinata dalle parti nel territorio della repubblica in mancanza di una determinazione delle parti gli arbitri provvedono se nessuno ha determinato la sede questa è individuata nel luogo di stipulazione della convenzione di arbitrato o a roma se la convenzione è stata stipulata all'estero la sede dell'arbitrato non vincola gli arbitri a svolgere il procedimento in tale luogo potendo tenere udienze con i rati istruttori deliberare e apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche i luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato e anche all'estero il procedimento e l'istruzione probatoria nel procedimento arbitrale il principio generale è quello dell'autonomia privata il che significa che gli arbitri devono seguire le regole processuali stabilite dalle parti le parti hanno il compito di definire le norme procedurali e la lingua dell'arbitrato in mancanza di tali regole gli arbitri hanno il potere di regolare lo svolgimento del processo e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono più opportuno indipendentemente dalla determinazione delle parti un principio superiore che gli arbitri devono rispettare è il contraddittorio nell'arbitrato è consentita l'assistenza tecnica del difensore e le parti possono essere rappresentate da difensori salvo espressa limitazione la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga dei termini per la pronuncia del lodo inoltre il difensore può ricevere la comunicazione del lodo e della sua impugnazione per quanto riguarda i provvedimenti interlocutori all'interno del procedimento arbitrale essi sono emessi sotto forma di ordinanze che possono essere pronunciate anche dal presidente del collegio arbitrale previ autorizzazione delle parti o degli arbitri quanto all'istruzione probatoria essa costituisce una fase facoltativa del procedimento arbitrale come avviene anche nel giudizio il problema principale riguarda la possibilità per gli arbitri di svolgere attività istruttoria poiché non dispongono di poteri coercitivi nei confronti dei terzi la riforma del 2006 ha cercato di affrontare questo problema introducendo la possibilità per gli arbitri di sentire i testimoni presso la loro abitazione o il loro ufficio oppure di richiedere una testimonianza scritta inoltre è prevista una forma di collaborazione tra l'autorità giudiziaria e gli arbitri se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri questi ultimi possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato di ordinare la sua comparizione in tal caso il termine per la pronuncia dell'odo è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza nell'arbitrato è ammessa la consulenza tecnica così come la possibilità di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione parliamo della pluralità di parti e la sospensione del procedimento arbitrale la presenza di una pluralità di parti nel procedimento arbitrale noto come cumulo soggettivo solleva questioni piuttosto complesse il decreto legislativo 40 del 2006 è intervenuto per affrontare questa problematica introducendo gli articoli 816 quadre 816 quinques nel caso in cui la controversia oggetto del procedimento arbitrale coinvolga un litis consorzio necessario il lodo può essere emesso solo se tutti i liti sconsorti sono vincolati dalla convenzione di arbitrato se ciò non avviene l'arbitrato non può procedere anche per coloro che hanno stipulato la convenzione di arbitrato la partecipazione del litis consorte necessario è sempre ammessa se il terzo interviene volontariamente nel caso di cumulo soggettivo ove non vi è l'itis consorzio necessario la possibilità di ricorrere all'arbitrato è subordinata al fatto che tutte le parti siano vincolate dalla convenzione di arbitrato in questi casi sorge poi il problema di garantire la costituzione di un collegio arbitrale equidistante rispetto a tutte le parti a tale scopo l'articolo 816 quater stabilisce alcuni criteri secondo i quali la costituzione del collegio può essere considerata equidistante e semplificamente alcuni criteri sono se la convenzione di arbitrato affida un terzo la nomina degli arbitri se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti e se le altre parti dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri nominano d'accordo un numero uguale di arbitri o affidano la nomina a un terzo il decreto legislativo 40 del 2006 chiarisce che l'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri il consenso delle parti attribuisce al terzo il valore negoziale del patto compromissorio allo stesso modo in cui avviene con la manifestazione di volontà del terzo per quanto riguarda il consenso degli arbitri questo sembra giustificato dal fatto che la partecipazione del terzo modifica la composizione soggettiva della controversia e quindi i parametri su cui gli arbitri hanno accettato l'incarico i problemi legati alla partecipazione del terzo sono ridotti quando il terzo partecipa in modo adesivo ovvero senza far valere un proprio diritto l'intervento adesivo dipendente è sempre ammesso e si applica la disciplina della successione nel diritto controverso la composizione soggettiva dell'arbitrato può cambiare anche a seguito di morte estinzione o perdita della capacità della parte situazioni che nel processo giurisdizionali portano all'estinzione del processo nell'arbitrato è lasciato agli arbitri il potere di individuare le misure necessarie per garantire l'applicazione del contraddittorio al fine di proseguire il procedimento tra cui la possibilità di sospendere il procedimento se nessuna delle parti rispetta le disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del procedimento gli arbitri possono rinunciare all'incarico gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale anche nei seguenti casi quando il processo dovrebbe essere sospeso in base all'articolo 75 comma 3 se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria se sorge una questione pregiudiziale su una materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato e che deve essere decisa con autorità giudicato oppure gli arbitri sospendono quando rimettono alla corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale senza l'articolo 23 della legge 87 del 53 parliamo adesso dei rapporti tra arbitro e giudice il rapporto tra arbitro e giudice è da analizzare da due diverse prospettive da un lato è compito del giudice valutare l'eventuale carenza di potere per cui la controversia deve essere deferita agli arbitri dall'altro lato gli arbitri devono valutare la propria competenza e la mancanza di potere del giudice iniziamo dal secondo aspetto in cui l'articolo 817 stabilisce che se durante l'arbitrato viene contestata la validità il contenuto o l'ampiezza della convenzione di arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri spetta agli arbitri decidere sulla propria competenza ciò significa che gli arbitri hanno il potere di decidere sulla propria competenza mentre compito della parte sollevare tempestivamente durante l'arbitrato l'eventuale carenza di potere degli arbitri se la questione non viene sollevata in tempo non può costituire motivo di impugnazione per nullità ai sensi dell'articolo 829 questa disposizione si applica anche nel caso in cui i poteri degli arbitri vengano contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione che si manifesti nel corso del procedimento nonché nel caso in cui le richieste delle altre parti eccedono i limiti della convenzione arbitrale passiamo all'ipotesi opposta cioè quando l'esistenza di una convenzione di arbitrato viene contestata davanti al giudice la relativa disciplina regolata dall'articolo 819 ter l'eccezione di incompetenza del giudice dovuta alla presenza di una convenzione di arbitrato deve essere proposta pena decadenza nella comparsa di risposta se l'eccezione non viene sollevata la competenza arbitrale viene esclusa solo per la controversia decisa in quel giudizio mentre la convenzione di arbitrato mantiene valore per altre controversie il giudice decide sulla questione della sussistenza della convenzione di arbitrato mediante sentenza o ordinanza che può essere impugnata tramite il regolamento di competenza come previsto l'articolo 819 ter in ultimo modificato dalla riforma cartabia la riforma cartabia ha introdotto altresì l'articolo 819 ter che disciplina la traslazio iudici tra il procedimento arbitrale il procedimento ordinario nonché tra il procedimento ordinario e quello arbitrale di conseguenza è possibile trasferire un procedimento pendente davanti all'autorità giudiziaria in primo grado in grado d'appello all'arbitro su richiesta congiunta delle parti preservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda l'articolo 819 ter stabilisce inoltre che durante il procedimento arbitrale non è possibile presentare domande giudiziali relative all'invalidità o all'inefficacia della convenzione di arbitrato tali domande possono essere presentate solo se il procedimento arbitrale non è in corso il rapporto tra processo giurisdizionale e procedimento arbitrale si basa sulla regola delle vie parallele permettendo ai due processi di procedere contemporaneamente l'articolo 819 ter comma 1 stabilisce infatti che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice pertanto se la stessa domanda è pendente sia davanti all'arbitro che davanti al giudice entrambi i procedimenti possono proseguire e non vi è una preminenza dell'uno sull'altro un limite al potere degli arbitri di decidere su questioni che esorbitano dalla convenzione di arbitrato può essere individuato anche in altri aspetti per quanto riguarda la compensazione gli arbitri sono competenti a conoscere dell'eccezione di compensazione nei limiti del valore della domanda anche se il controcredito non è compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato tuttavia gli arbitri non possono decidere con forza di giudicato sulla controparte della compensazione che eccede la convenzione ma mantengono il potere di esaminare incidentalmente tale questione senza che la loro decisione abbia valore di giudicato gli arbitri hanno anche il potere di conoscere incidentalmente alcune questioni pregiudiziali possono infatti esaminare senza autorità di giudicato tutte le questioni incidentali rilevanti per la decisione della controversia anche se riguardano materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato a meno che non si tratti di questioni che devono essere decise con forza di giudicato ai sensi di legge in tal caso gli arbitri sospendono il procedimento in base all'articolo 819 bis numero 2 cpc una delle innovazioni più significative introdotta dalla riforma cartabia in materia di arbitrato è senza dubbio il riconoscimento dei poteri cautelari degli arbitri rituali confermando ulteriormente l'intento del legislatore di avvicinare sempre di più il processo ordinario a quello arbitrale l'articolo 818 nella sua nella sua formulazione riformata prevede che le parti mediante la convenzione di arbitrato un atto scritto precedente l'avvio del procedimento arbitrale anche mediante il rinvio a regolamenti arbitrali possono conferire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari pertanto l'attribuzione del potere cautelare è demandata alla volontà delle parti che deve essere espressa prima dell'inizio del procedimento arbitrale parliamo adesso del lodo l'atto conclusivo del procedimento arbitrale è il lodo il termine per la sua pronuncia è di 240 giorni dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri a meno che le parti non abbiano stabilito un termine diverso tramite la convenzione di arbitrato o un atto precedente all'accettazione della stessa questo termine può essere prorogato tramite dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri dal presidente del tribunale designato secondo le modalità dell'articolo 810 comma 2 su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri presentata entro la scadenza del termine in ogni caso la proroga del termine può avvenire solo prima della scadenza salvo diversa disposizione delle parti il termine può essere prorogato di 180 giorni una sola volta in ciascuna delle seguenti ipotesi le singole ipotesi possono concorrere ma non più di una volta ciascuna quindi se devono essere assunti i mezzi di prova se disposta una consulenza tecnica d'ufficio se viene emesso un lodo non definitivo un lodo parziale se avviene una modifica nella composizione del collegio arbitrale o viene sostituito l'arbitro unico il termine per la pronuncia del lodo viene sospeso durante la sospensione del procedimento in ogni caso dopo la ripresa del procedimento il termine residuo se inferiore viene esteso a 90 giorni se scade il termine senza che venga pronunciato il lodo ciò non determina automaticamente la nullità del lodo stesso la scadenza del termine rappresenta una causa di nullità del lodo solo se la parte prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza della maggioranza degli arbitri ha notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la decadenza il lodo viene deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri e deve essere redatto per iscritto il lodo può essere di diverse tipologie con diversi contenuti si può distinguere tra lodo di diritto e lodo di equità in base al criterio di giudizio su cui si basa l'alternativa corrisponde a quella presente nel processo giurisdizionale tra decisione secondo diritto e la decisione secondo equità di regola prevale la decisione secondo diritto mentre la decisione secondo equità è ammessa solo eccezionalmente se le parti lo dispongono con qualsiasi espressione e poi si può distinguere tra lodo parziale lodo non definitivo e lodo definitivo la distinzione tra queste modalità richiama quella presente nel processo giurisdizionale il lodo è parziale quando decide solo su una delle domande proposte e non definitivo quando decide una questione relativa alla domanda passando all'efficacia del lodo esso ha dalla data dell'ultima sottoscrizione gli effetti di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria questo è l'articolo 824 bis il lodo ha tra le parti efficacia vincolante di una sentenza tuttavia per ottenere l'efficacia di un titolo esecutivo il lodo deve essere sottoposto alla procedura di omologazione conosciuta come ex equatur davanti all'autorità giudiziaria attraverso un procedimento camerale non contenzioso il deposito del lodo allo scopo di riconoscere alla parte vincitrice il potere di avviare l'esecuzione forzata questo vale principalmente per i lodi di condanna ma anche negli altri casi poiché attraverso l'omologazione è possibile ottenere la trascrizione o l'annotazione del lodo durante il procedimento di omologazione il giudice competente si limita a verificare la regolarità formale del lodo ma non la sua validità contro il decreto che nega o concede l'esecutorità del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione la corte sentite le parti decide in camera di consiglio con un'ordinanza il lodo può essere soggetto anche a correzione degli errori materiali come avviene per la sentenza secondo quanto previsto all'articolo 826 parliamo adesso delle impugnazioni del lodo l'impugnazione del lodo arbitrale può avvenire mediante diversi mezzi tra cui l'impugnazione per nullità la revocazione e l'opposizione di terzo la forma di impugnazione più comune e rilevante è l'impugnazione per nullità che deve essere presentata presso la corte d'appello competente del distretto in cui si trova la sede dell'arbitrato il termine per impugnare di 90 giorni dalla notificazione del lodo o sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione questa impugnazione è soggetta a una critica vincolata poiché i motivi specifici e tassativi sono indicati nell'articolo 829 del codice di procedura civile questi motivi possono essere distinti in base alla loro rilevabilità durante il procedimento o indipendentemente dall'istanza delle parti tuttavia l'impugnazione per nullità non può essere preventivamente disponibile da parte delle parti sono elencati vari motivi per l'impugnazione per nullità nell'articolo 829 comma 1 cpc tra cui l'invalidità della convenzione d'arbitrato la mancata osservanza delle procedure di nomina degli arbitri la pronuncia del lodo da parte di una persona non idonea ad essere arbitro la decisione al di fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato o la mancanza dei requisiti richiesti per il lodo altri motivi includono la violazione delle forme prescritte dalle parti o la mancata osservanza del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale i vizi deducibili come motivo di nullità possono essere classificati come errores in procedendo o errores in iudicando gli errores in procedendo sono tutti vizi di procedura elencati nell'articolo 829 comma 1 gli errori in iudicando invece sono soggetti a eccezioni e devono essere espressamente disposti dalle parti o dalla legge il lodo è sempre impugnabile quando la sua ingiustizia comporta una violazione dell'ordine pubblico che appunto è un error in iudicando esistono alcune limitazioni all'impugnazione per nullità ad esempio la parte che ha dato causa al motivo di nullità o vi ha rinunciato non ha sollevato l'eccezione nel corso del procedimento arbitrale non può impugnare il lodo per nullità l'accoglimento dell'impugnazione per nullità comporta l'annullamento del lodo questo è l'effetto rescindente ma in alcuni casi può anche comportare la risoluzione della controversia cosiddetto effetto rescissorio da parte della corte d'appello tuttavia se la corte d'appello decide solo sull'annullamento del lodo si applica ancora la convenzione di arbitrato a meno che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia nel processo di impugnazione per nullità è possibile sospendere l'efficacia esecutiva del lodo su istanza di una delle parti anche successivamente alla presentazione dell'impugnazione la corte d'appello emette un'ordinanza sulla richiesta di sospensione se esistono gravi motivi altro mezzo per impugnare il lodo è la revocazione la revocazione del lodo è un mezzo di impugnazione straordinaria che può essere utilizzato per chiedere l'annullamento del lodo arbitrale questo strumento è previsto dall'articolo 395 del codice di procedura e segue i termini e le forme applicabili alle sentenze giurisdizionali la revocazione del lodo può essere richiesta solo per motivi specifici elencati nell'articolo 395 questi motivi includono l'esistenza di un documento decisivo che si è stato scoperto successivamente al lodo e che avrebbe potuto influenzare la decisione se fosse stato conosciuto in precedenza la prova di frode processuale commessa da una delle parti o da un terzo coinvolto nel procedimento arbitrale la prova che una delle parti ha ottenuto il lodo attraverso violenza o minaccia e anche la prova che il lodo è stato ottenuto in seguito a un falso giuramento una testimonianza falsa è importante notare che la revocazione del lodo può essere richiesta solo per motivi specifici e che tali motivi devono essere basati su fatti nuovi che sono emersi dopo la pronuncia del lodo e che non erano noti o non potevano essere conosciuti prima il termine per presentare la richiesta di revocazione di 90 giorni dalla scoperta del fatto o dalla conoscenza del documento decisivo questo termine soggetto a decadenza inizia a decorrere dal momento in cui la parte interessata ha avuto effettiva conoscenza del fatto o del documento la richiesta di revocazione del lodo deve essere presentata presso la corte d'appello competente del distretto in cui si trova la sede dell'arbitrato la corte d'appello esamina la richiesta e decide se accoglierla o respingerla se la richiesta di revocazione viene accolta il lodo viene annullato e la causa può essere sottoposta a un nuovo procedimento arbitrale o a una diversa forma di risoluzione delle controversie se invece la richiesta viene respinta il lodo rimane valido l'impugnazione per revocazione non può più essere presentata altro mezzo di impugnazione del lodo arbitrale è l'opposizione di terzo l'opposizione di terzo nel lodo arbitrale è un mezzo di tutela che consente a un terzo estraneo al procedimento arbitrale di contestare o impugnare il lodo emesso dagli arbitri questo strumento è disciplinato l'articolo 827 e può essere utilizzato quando il terzo ritiene che il lodo abbia effetti pregiudizievoli sui suoi diritti o interessi l'opposizione di terzo può essere presentata alla corte d'appello competente nel distretto in cui si trova la sede dell'arbitrato il terzo deve dimostrare di avere un interesse legittimo impugnare il lodo e deve indicare i motivi specifici su cui si basa la sua opposizione i motivi che possono essere invocati per l'opposizione di terzo sono elencati all'articolo 827 e includono l'illegittimità o l'invalidità della convenzione di arbitrato sulla quale si fonda il procedimento arbitrale l'inesistenza l'invalidità o inefficacia della notificazione del procedimento arbitrale al terzo l'omissione della notificazione del lodo al terzo la violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale che abbia pregiudicato i diritti o gli interessi del terzo è importante notare che l'opposizione di terzo deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla notificazione del lodo al terzo questo termine di carattere decadenziale inizia a decorrere dal momento in cui il terzo ha avuto effettiva conoscenza del lodo la corte d'appello esamina l'opposizione di terzo e decide se accoglierla o respingerla nel caso in cui l'opposizione venga accolta il lodo può essere annullato o modificato nei suoi effetti in relazione ai diritti o agli interessi del terzo se invece l'opposizione viene respinta il lodo rimane valido e l'oppositore deve sopportarne gli effetti è importante sottolineare che l'opposizione di terzo è un mezzo di tutela particolare che consente al terzo di far valere i propri diritti o interessi nel contesto del procedimento arbitrale tuttavia non comporta una nuova decisione sul merito della controversia tra le parti originarie ma si limita ad affrontare gli aspetti che coinvolgono il terzo ultimo argomento di questa lezione è l'arbitrato societario la riforma cartabbia ha apportato significative modifiche all'arbitrato societario introducendo la disciplina all'interno del codice di procedura civile con quattro nuovi articoli 883 bis 838 bis 838 ter 838 quater e 838 quinques le modifiche prevedono che gli atti costitutivi delle società tranne quelle che ricorrono a capitale di rischio possono stabilire che la soluzione delle controversie sia affidata a degli arbitri la clausola deve indicare il numero e le modalità di nomina degli arbitri e deve essere conferita a un soggetto esterno la cui decisione se non vi provvede sarà richiesta al presidente del tribunale in cui la società ha la propria sede legale questa clausola vincola sia la società che i soci la disciplina del procedimento arbitrale è inderogabile e la domanda per avviare la procedura va depositata presso il registo delle imprese alla quale possono avere accesso i soci al procedimento possono prendere parte terzi e altri soci fino alla prima udienza di trattazione se in sede arbitrale vengono portate questioni relative alla validità delle delibere assembleare assembleari i soci possono sospendere l'efficacia con un'ordinanza una volta concluso il lodo è vincolante per la società gli arbitri devono decidere secondo diritto anche se la clausola li autorizza a decidere secondo equità se sono venuti a conoscenza di questioni non compromettibili e se l'oggetto del giudizio è rappresentato dalla validità delle delibere assembleari infine la norma permette di risolvere contrasti sulla gestione delle società permettendo che gli atti costitutivi delle società di persone di capitali possono contenere clausole che attribuiscono a terzi quei contrasti che possono sorgere tra gli amministratori è possibile prevedere che le decisioni possono essere reclamate davanti a un collegio e che il soggetto il collegio arbitrale possano dare indicazioni vincolanti su questioni collegate con quelle che sono state loro deferite espressamente spettacare